La pasta morbida, gli odori pungenti, le muffe colorate, formaggi che sembrano svizzeri e francesi ma che in realtà sono fatti alle porte di Roma, precisamente al sacrofano da Andrea Cillo, un artigiano unico nel suo genere che da qualche anno ha fondato il caseificio alchimista Lactis. L'intuizione o idea è stata quella di prendere il latte di pecora, che qui nel Lazio si sa è il latte che va per la maggiore, valorizzare questo latte non facendo solo caciotte, pecorini, che è quello che la tradizione laziale ha sempre fatto, ma di spingermi su lavorazioni che non sono della tradizione, come delle lattiche di pecora, come delle croste lavate, croste fiorite, sempre al latte di pecora e delle caciotte un po' più robuste, un po' più, con un sapore più accentuato. Sono formaggi che prima non esistevano, fatti con latte di mucca e pecora di allevatori locali che dal territorio prendono anche i loro originali nomi. Il principio di base di Alchimista Lactis, è così che il mio nome d'arte, è così che mi chiamo, è quello di legare ogni prodotto al territorio. La mia grande, chiamiamola quasi presunzione se vogliamo, non è quella di uscire io come Alchimista Lactis, ma è di far uscire un territorio, di far conoscere il Parco di Veio, di far conoscere Sacrofano, di far conoscere questa terra a due passi da Roma che magari non ha così tanta visibilità, che non è conosciuta così tanto. È mamma di tre figli, anzi quattro, perché la vigna che vent'anni fa ha piantato nell'area dell'Aleatico Doc, a Grotte di Castro, gode delle cure materne come gli altri suoi fratelli. Da quando ha scelto di dedicarsi alla viticoltura, Antonella Pacchiarotti si impegna per la valorizzazione delle uve autoctone del suo territorio, che trasforma in vini dolci e secchi. Abbiamo cominciato producendo la versione più classica dell'Aleatico, quindi gli Aleatici Dolci, due Aleatici, Butouni e Turan. Turanè, peraltro, è anche il nome che gli Etruschi danno a Venere, quindi è un omaggio alla femminilità e anche alla mia zona, che è terra etrusca. E poi nel tempo, diciamo, ovviamente mi sono resa conto che l'azienda non si poteva sostenere solo sulla produzione di vini dolci, il mercato richiedeva altro. E siccome l'Aleatico, mio padre mi diceva sempre che con l'Aleatico ci si aggiustavano un po' tutti i vini, perché li faceva diventare più accattivanti, ho pensato di poterli vinificare secchi. Così nel 2009 nella cantina nasce un rosato, anch'esso tributo alla femminilità. Qualche anno dopo arrivano altri due secchi. Matei, che è un Aleatico vinificato in bianco, e Cava Rosso, che è una versione classica di un'uva rossa. Per ultimo nel 2015 si è unito alla famiglia un altro vino, che è un rosato ma ha un colore, diciamo, particolare. Il nome è Ramatico, proprio perché assume questo colore così, il rame. Chi ha la fortuna di incrociare sulla propria strada l'Aleatico, in ogni forma, diciamo, sotto ogni forma, che sia dolce, che sia secco, può senz'altro riconoscere l'amore che ciascuno di noi produttori mette nel coltivare la propria vigna e nel dar vita ai propri vini. Ma nella qualità indiscussa di questo vitigno, che veramente è eclettico e che dà molta soddisfazione. Nel suolo di argilla e sabbia delle campagne a ovest dell'Alto Lazio affondano le radici molte delle famiglie assegnatarie di terreni agricoli durante la riforma agraria del secolo scorso. Nuclei che ancora oggi si tramandano il faticoso onere di lavorare i campi, come la famiglia di Nazareno Giorgini, che in queste terre di grano e cereali ha scelto di produrre olio e vino. Il nostro suolo, qui nella nostra azienda, praticamente è composto per la maggior parte da terreno sabbioso, limoso, diciamo, che è sassoso. Proprio per questo dà delle caratteristiche ottimali per la produzione della vite e dell'olivo, perché praticamente dà una buona parte di potassio e di magnesio, già ce l'abbiamo appunto nel terreno come caratteristica, e questo dà una qualità molto alta. Oggi Nazareno e i figli stanno realizzando l'idea di rendere la propria fattoria un punto di riferimento diretto per i consumatori. Siccome questo territorio dà delle buone caratteristiche ai prodotti, quindi cercando di arrivare direttamente al consumatore, possiamo portare le caratteristiche che noi abbiamo, dei nostri vari prodotti, direttamente al consumatore. Quello che speriamo di fare in futuro è creare anche un laboratorio di trasformazione di prodotti nostri, e quindi arrivare praticamente a produrre la quarta gamma e arrivare col prodotto finito da consumare, sia fresco, crudo e se ci riusciamo anche cotto, proprio pronto al consumo. Questo è quello che noi ci proponiamo di fare. Il presidente del CDA di Arzia, l'Antonio Rosati, rassegnerà a breve le dimissioni in quanto è stato nominato il 20 luglio scorso amministratore delegato di Eura S.P.A. Ringrazio con affetto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, per la fiducia dimostrata e confermata negli anni nei miei confronti, ha scritto in una nota a Rosati. Sono stati anni impegnativi e straordinari, dove abbiamo raggiunto importanti traguardi, dal bando delle terre pubbliche ai giovani, e al risanamento dell'Enoteca regionale, fino alla creazione dell'Accademia del Cibo Arzial, che aprirà in autunno al Wegil. Nella nota Rosati ha menzionato anche due realtà sociali a lui care, con le quali tramite Arzial ha attivato progetti, la Locanda dei Girasoli e il Caccio Sociale di Corviale. A questi il presidente devolverà la sua indennità nel periodo di passaggio fino alle sue dimissioni dall'Agenzia. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it e la sua indennità è la sua indennità.it